L'Italia non fallirà, sacrifici urgenti ma necessari, le parole di Mario Monti alla camera dove ha presentato la manovra. Giù lo spread e bene le borse, Milano chiude in positivo a più 2% e l'effetto della manovra sui mercati, intanto dal PD arriva alla richiesta di apportare qualche correzione alla manovra. Per Berzani non è abbastanza equa ma migliorabile. È ora di cambiare i trattati, la Merkel e il Sarkozy chiedono nuove regole per l'Unione Europea, tra queste anche il pareggio di bilancio nella costruzione di tutti i paesi dell'Eurozona. Buonasera a tutti per i torti su PD oggi, avete sentito oggi Mario Monti andato alla camera, attualmente al Senato dove ha presentato la manovra. Insomma noi vedremo nel dettaglio le sue parole e soprattutto cosa comporta questa manovra, ha parlato di sacrifici urgenti e soprattutto all'orizzonte sarebbe stato il rischio Grecia, per questo dobbiamo fare in fretta. Siamo subito il nostro ospite, questa sera Roberto Ippolito, buonasera ben trovato, è un giornalista scrittore, giornalista economico, ha da poco pubblicato Evasori, quindi insomma parleremo con lui anche un po' di alcune misure, delle misure in sé che contiene questa manovra. Allora l'avete visto insomma andiamo subito a risentire Monti perché avete sentito le nostre parole, senza questo pacchetto l'Italia crolla, va in una situazione simile a quella della Grecia e insomma per questo insomma non dobbiamo assolutamente imitare la Grecia. Siamo consapevoli che la manovra comporti dei sacrifici ma non fare questi sacrifici oggi ha detto Monti, vorrebbe dire farne altri anche ben più dolorosi tra poche settimane e forze pochi giorni. Gli interventi anche dolorosi, deliberati e trasmessi alla valutazione del Parlamento, deliberati nel Consiglio dei Ministri tenutosi ieri, contengono in sé i semi di un'azione che mira a disegnare l'Italia dei nostri figli. Un'Italia seria, europea, saldamente ancorata ai valori del lavoro e del risparmio, ma finalmente capace di esprimere una crescita duratura. Questo è uno di quei momenti storici nei quali il dovere di tutti è di essere fedeli all'Italia, di pensare in ogni istante, in ogni comportamento alla salvezza di questa grande nazione che attraversa un momento molto critico. Allora, Pallito, io chiedo subito una cosa, insomma, Monti dopo la presentazione ieri sera in conferenza stampa, proprio dopo il Consiglio dei Ministri, oggi alla prova proprio della Camera, del Senato, dove attualmente sta parlando, ecco come valita questa manovra e soprattutto è stata un po' definita dai giornali in queste ore, insomma, almeno da alcuni, la manovra delle tasse della poca crescita. Che adesso è fatto di questa manovra e poi entriamo nel dettaglio delle misure? Allora sì, però, come dire, se entriamo subito nel giudizio sui singoli pezzi, poi rischiamo di dimenticarci, prendo le parole di Monti, che questa è una manovra seria ed europea. Avevamo bisogno di serietà e dopo anni e anni di anti-europeismo più o meno evidente, più o meno mascherato, ma sostanzialmente molto forte, oggi finalmente abbiamo un governo che torna a essere europeista. Questo, come dire, è il punto di partenza e ci fa tirare un sospiro di sollievo. È una manovra che tenta di correggere i conti pubblici da dieci anni lasciati andare, come tale si preoccupa un po' troppo del versante delle entrate, quindi troppe tasse, rispetto al versante delle uscite, che non devono essere soltanto i tagli delle risorse date agli enti locali, per esempio, ma deve essere un intervento approfondito di riduzione della spesa pubblica angolino per angolino. Allora, ma su questo entriamo nel dettaglio, anche perché abbiamo una scheda che ci delinea maggiormente questa manovra. Allora vediamo la scheda di Beatrice Rutiloni. L'obiettivo è il pareggio di bilancio entro il 2013, ma per fare questo bisogna stringere la cinghia. Si rivolge i cittadini in prima persona a Mario Monti per spiegare la manovra a cui lui stesso dà un titolo, Salva Italia. Un pacchetto di misure che vale 30 miliardi lordi e 24 netti, che tenterà di invertire il segno meno del PIL annunciato per il prossimo anno. Equità, rigore e sviluppo è il mantra del professore che presenta una manovra senza la quale l'Italia va in default, ma che addossa un grosso onere sulla previdenza, tanto da far piangere un ministro. Perché il sistema pensionistico è un meccanismo lungo tra le generazioni. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un secco. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Le lacrime di Elsa Fornero dipendono dalla decisione di non indicizzare le pensioni per il 2012, con l'eccezione delle minime e di quelle fino a due volte il minimo. Si parla di importi sotto i 1000 euro, per gli altri nessun adeguamento al costo dell'inflazione. Questa misura, la più dolorosa, si aggiunge a quella sull'innalzamento dell'età pensionabile, sia per le donne, che dovranno smettere di lavorare a 62 anni, che per gli uomini, la cui età minima sarà a 66. È previsto un sistema di incentivi e disincentivi per chi voglia restare al lavoro oltre all'età prevista dalla legge, o per chi al contrario intenda ritirarsi prima. L'altra grande fonte di entrata è la tassa sul mattone. Torna lìci sotto forma di IMU, che porterà nelle casse dello Stato tra i 9 e gli 11 miliardi, tassa che, è bene notare, è solo anticipata rispetto al 2014, quando sarebbe comunque stata reintrodotta con il federalismo fiscale. Si pagherà lo 0,4% sulla prima casa e lo 0,75% sulla seconda. Il pacchetto tasse non finisce qui. Aumento dell'IVA di due punti percentuali a partire dalla metà del prossimo anno, imposta dell'1,5% sui capitali rientrati grazie allo scudo fiscale e soglia della tracciabilità dei pagamenti abbassata a 1.000 euro. E ancora la tassa sul lusso. Pagheranno le barche sopra i 10 metri, le auto di grossa cilindrata e gli aerei privati. Niente IRPEF sulla fascia alta di reddito, ma aumento dell'addizionale regionale per tutti, che andrà a coprire le spese sanitarie. Sul ceto medio e medio alto graverà poi una nuova imposta, quella sul bollo, che riguarda tutte le forme di risparmio, dai fondi di investimento alle polizze vita. Qualche taglio anche ai costi della politica, con particolare attenzione alle province. Saranno abolite le giunte, i consigli non potranno contare più di 10 membri, ridotti i componenti delle otto autoriti che passano da 50 a 28. E poi c'è l'annuncio che riguarda personalmente il Premier. Rinuncio al trattamento economico, allo stipendio, non so come si chiami, da Presidente del Consiglio e da Ministro dell'Economia e delle Finanze. Infine il pacchetto per lo sviluppo. Alle imprese che assumono e ricapitalizzano sarà ridotta l'IRAP e sarà rafforzato il fondo di garanzia a sostegno delle aziende. Chiuso il pacchetto, la manovra arriva ora in Parlamento, dove c'è già chi prevede un iter rapidissimo a colpi di fiducia. Allora, Eppolito, io le chiedo subito, poi naturalmente valuteremo ancora quello che succederà tra i partiti, però intanto si aspettava qualcosa di più, cosa manca e soprattutto, insomma, Monti ha detto che non pagano i soliti noti perché la critica è stata questa in queste ore. Lei che pensa? Allora, il quadro complessivo è indubbiamente un quadro che mira a raddrizzare i conti pubblici. Quindi questo non dimentichiamoci e se non fossero successe così tante cose negative in questi ultimi anni non saremmo a questo punto. Detto questo, manca qualcosa. Le lacrime di Elsa Fornaro sono nel momento in cui parla dei sacrifici chiesti ai poveri. Non ha pianto per i sacrifici chiesti ai ricchi. E perché non ha pianto? Perché quei sacrifici lì, come dire, non ci sono o non ci sono nella misura adeguata. Quindi manca un'imposta patrimoniale o un'imposta sulle grandi ricchezze. Ma forse avrei il dubbio che la stessa ICI sulla prima casa o comunque sulla casa ha un dislivello tutto sommato abbastanza basso fra la prima casa e i patrimoni più consistenti. Quindi, uno, manca qualcosa sui patrimoni. Due, parte fiscale. Eccellente, certamente, la tracciabilità dei pagamenti. Tutto ciò che lascia traccia può essere ricostruito, ma deve essere, come dire, indagato. Cioè, sono necessari i controlli che negli ultimi anni sono pesantemente diminuiti. I controlli fiscali sono, purtroppo, fastidiosi, ma necessari. Questo è un'evità un po' del governo Monti, in Settremonti, voglio dire. Beh, sì, negli ultimi anni i controlli sono diminuiti. Controlli fiscali in generale, controllo per il lavoro nero, pesantemente diminuiti. Se noi possiamo fare la misura fiscale più bella al mondo, se però non andiamo a verificare, è come fare mettere un divieto di sosta e poi non mettere i vigili urbani al lavoro per andare a vedere chi ha messo la macchina in divieto di sosta. Per quel divieto di sosta diventerà completamente inutile. Terza cosa che purtroppo manca, tagli mirati, come un po' accennavo prima, sulla spesa pubblica. Cioè, andare ufficio per ufficio, angolo per angolo, a vedere che cosa si può fare, come lo Stato contemporaneamente può essere anche modernizzato. Una valanga di documenti in meno, una valanga di email in più. Il risparmio è meraviglioso. Intanto il segretario del Partito Democratico, Pierluigi Bersani, proprio dopo l'intervento del Presidente del Consiglio sulla manovra, proprio a Monticinoglio, ha detto che confermiamo che siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità. Abbiamo detto che anche con nettezza, cosa faremo noi, cosa chiediamo si faccia, dobbiamo assolutamente migliorare la manovra, alleggerendola su alcuni punti. Si tratta di una manovra non abbastanza equa, ma migliorabile. Avete sentito le parole? Allora, sentiamo ancora cosa ha detto Monti proprio in aula. Questo è ovviamente solo l'inizio. Siamo adesso, non dal punto di vista dei carichi, non proporremo altrettante cose ogni 17 giorni, vi posso di questo assicurare. Speriamo che non sia necessario. E questo dipenderà anche da ciò che il Parlamento e dalla tempestività con cui il Parlamento riterrà di dare approvazione, cioè conversione in legge, dopo tutti i dibattiti che saranno necessari a queste misure. Ma questo è un primo passo anche in un altro senso. Avete visto, avete sentito, sapete. Il Presidente del Consiglio Berlusconi sa particolarmente, perché la sua lunga esperienza è ancora recente, di quanto ciò che si fa qui venga scrutinato, valutato, discorso, valorizzato o meno in sede europea. E sappiamo anche, me l'avete manifestato in tutte le occasioni dei vostri interventi precedenti, che l'Italia è pronta a fare ciò che deve fare, ma non vuole che l'Europa non faccia lei ciò che deve fare. E io vi assicuro che, armato, se voi vorrete, di questo pacchetto, io potrò, a nome del Governo e a nome del Paese, in Europa, rappresentare con più vigore, con più forza, con più credibilità, che non deriva dalla persona, ma che deriva da quello che l'Italia fa in casa propria, le posizioni che riteniamo migliori per uno sviluppo equilibrato, armonico dell'Unione Europea, ancoraggio sicuro per l'Italia. Grazie. Allora, intanto però è sceso sotto il 6% il rendimento dei BTP dicennali, 5,98%, mentre lo spread con il punto tedesco è sceso a 378,7%, il prezzo pagato dal titolo di Stato aveva sfondato il tetto del 6%, soltanto lo scorso 28 ottobre. Ottima performance anche delle borse europee, o soprattutto Milano, che ha chiuso oltre il 2%. Insomma, quindi, ecco, questo comunque è una buona notizia. Adesso leggevo qua il commento di Brunetta, cioè se lo spread supera torno a 200, Monti ha vinto. Insomma, diciamo che è una cosa che bisogna curarsi a questo punto, per il bene dell'Italia, ovviamente. Certo, anche perché questo, come dire, è diventato antipatica la parola spread, ma significa differenza di interessi. Gli interessi sono quelli che paghiamo sul debito pubblico, se gli interessi sono più bassi, lo Stato ha meno bisogno di soldi. È molto semplice, quindi ne possiamo gioire sotto tutti i punti di vista, come italiani, come senso di immagine generale, ma anche come tasca nostra. Servono meno interventi. Ovviamente poi bisogna sempre dedicarsi a ridurre deficit a debito. Senta, ma come mai, secondo lei, sulla tracciabilità, insomma, non hanno usato più di tanto? Hanno preso poi ad alto molte indicazioni del Partito Democratico. Però, secondo lei, perché? Perché c'è sempre una parte di opinione pubblica, drammaticamente, sconvolta. Io continuo a sentire persone, ah, viene violata addirittura l'i-privacy. Stamattina in un dibattito ho dovuto dire, scusate, ma quando siamo all'aeroporto, al metal detector, che si apre la valigia e tutti ci controllano, quanta biancheria abbiamo, quante camicie abbiamo, che cosa portiamo, dietro non è violazione dell'i-privacy. Allora mi è stato obiettato, ma è per la sicurezza. Ma perché le tasse non le paghiamo? Per la sicurezza, per la polizia, la magistratura, i carabinieri, oltre che per i banchi delle scuole, l'asfalto. Tutto questo però non è chiaro, come dire, sembra sempre che si dia fastidio alla gente. Allora, mettiamoci in testa che se siamo controllati e adeguatamente, seriamente, civilmente, c'è una possibilità che gli evasori, che sono tanti e sono troppi, ricordiamocelo, la stima dell'evasione, come dire, accettata da tutti e 120 miliardi di imposte base in un anno. Il deficit pubblico del 2010 è di 71 miliardi, molto, molto meno dell'evasione fiscale. Pensate come staremmo bene. Allora, purtroppo lì, come dire, anche Monti risente, non di una timidezza sua, di un problema generale, che toccare queste cose, come dire, sempre spavente, delicato, bisogna incamminarsi dritti su questa strada e addirittura si potrebbe fare un salto successivo, far sì che, come dire, anche come forme di sollecitazioni, diminuire le commissioni sulle carte di credito, aumentare le commissioni sul prelievo di contante. Allora, su questo poi torniamo. Intanto però sentiamo cosa ha detto proprio la Camera, il capogruppo appunto del Partito Democratico, Dario Franceschini, proprio in risposta, insomma, sulla manovra che ha presentato oggi Monti e sulle proposte del PD. Sentiamo. Noi avremmo lavorato per una maggiore equità, diciamo soltanto i titoli per la brevità, un intervento più graduale sulle pensioni, uno scalone meno improvviso, non dimenticarsi di chi vede innalzarsi l'età non mentre sta lavorando, ma avendo già perso il lavoro, non dimenticarsi dei lavoratori precoci. Avremmo voluto e vorremmo una franchigia maggiore per la prima casa, per l'Imu sulla prima casa. Avremmo voluto invece di più sui grandi patrimoni, sulle rendite finanziarie, avremmo cercato risorse sulle frequenze televisive e sulla dismissione del patrimonio pubblico immobiliare. La destra probabilmente avrebbe fatto altre scelte. E noi le cose che abbiamo in mente, che le abbiamo detto negli incontri, nessuna di queste è in un momento complicato e difficile dettata dal problema dei voti del consenso. Ma sono dettate, secondo noi, il rispetto di un principio che non si deve mai dimenticare, di giustizia sociale. Perché ogni cittadino italiano a cui in queste ore si va a chiedere un sacrificio deve sentire, deve avvertire che il sacrificio è chiesto ad ognuno in base ai propri mezzi e che non ci saranno più furbissie, non si tollererà più chi da anni viola le regole ed evade commettendo un delitto contro la propria comunità, una vigliaccheria contro la propria comunità, quella in cui vive. Per questo noi vogliamo e continueremo a lavorare un impegno molto forte sull'evasione fiscale. Le proposte che le abbiamo fatte erano un incontro ufficiale, quindi le possiamo riportare qua, e che sono state non totalmente, ma positivamente, parte parzialmente accolte miravano esattamente a questo, la tracciabilità dei pagamenti. Noi vorremmo meno di quei mille euro, perché è una grande modernizzazione del Paese, della scomparsa del contante che crea nero e crea evasione. Vorremmo un prelievo maggiore sullo scudo fiscale, perché se si deve chiedere un contributo di solidarietà lo si chiede a chi ha violato la legge, a chi ha esportato capitali illegalmente e ha pagato solo il 5%, ma c'è un primo segnale in quella direzione e siamo soddisfatti che quello abbia consentito di lasciare l'aumento dell'indicizzazione anche alla fascia di pensione tra 460 e 950 euro. È un primo segnale. Noi ricordiamo che basterebbe oggi quell'1,5% sullo scudo fiscale farlo diventare il 2 per poter aumentare la fascia in cui indicizzare le pensioni, anche a chi prende 1.500-2.000 euro. Allora le chiedo Eppolito, secondo lei questa insomma non ora è migliorabile in Avola o c'è il rischio fiducia? Poco fa Berlusconi diceva speriamo che Monti metta la fiducia, bisogna capire perché intanto però c'è un margine secondo lei è abituato alla fiducia Assolutamente il governo insomma c'è un margine per questo confronto a questo punto può essere anche Intanto politicamente questa battuta di Berlusconi mi fa pensare ma allora lui è proprio contento se è proprio contento come dire visto che i conti pubblici sono quelli che ha retto lui finora a parte ora questa malignità questo governo è un'espressione di un larghissimo consenso che vuol dire una larghissima e composita maggioranza parlamentare forze diverse addirittura alternative fra di loro danno la possibilità a Monti di governare e di stare in piedi è impensabile che il Parlamento non possa intervenire sarebbe veramente strano pericoloso sarebbe un tirare la corda magari come dire può avvenire in aula e non in commissione la fiducia insomma strada facendo però non si può procedere a colpi di fiducia prendere o lasciare credo sia un pochino troppo è una cosa che assolutamente Monti tra l'altro insomma ieri lo diceva anche in conferenza stampa non è assolutamente come dire interessato intanto però il Cipe domani sbloccherà opere infrastrutturali per un ammontare di 5,2 miliardi di euro sempre detto Monti sempre in aula precisando che le opere che verranno sbloccate riguardano soprattutto il sistema ferroviario con l'alta velocità e le mose interventi per il sud tra cui anche la stale ionica la metropolitana di Napoli la stata di Palermo l'agrigento il porto di Taranto alcuni sono un po' lamentati che forse in questa manovra sicuramente manca molto il sud adesso questi insomma sono sicuramente il Cipe è una cosa importante quindi probabilmente è un po' realistica questa cosa visto che si parla di rilancio beh diciamo questi interventi se sono concreti sono abbastanza importanti e un pochino un segno di attenzione c'è forse una politica meridionalista oggi seria concreta non di assistenza non di contributi non di regali è assolutamente indispensabile il mezzogiorno deve ritornare a essere una possibilità per tutto il paese di recupero di rilancio a cominciare da un settore che purtroppo è trascurato nelle conversazioni di questi giorni ed è trascurato mi dispiace dirlo anche nel discorso con il quale Monti si è insediato in Parlamento che è la cultura che ci può dare un'opportunità incredibile importantissima con chiaramente un pochino di cura e un po' di attenzione ma il Sud ha un tesoro straordinario sia dal punto di vista culturale storico artistico sia ambientale paesaggistico certo sono stati fatti dei disastri in mani pensiamo all'abusivismo però può essere il punto di svolta e tutto sommato con investimenti meno impegnativi che non in altri settori tanto però una data adolente poi sull'anfrumento sulla cultura torniamo anche perché parleremo degli stati generali della cultura che ha organizzato il periodo democratico questo weekend però insomma c'è una adolente tutto questo cioè la CGL la Cisle Will che in questi giorni insomma voleranno un po' separati al momento un'agenzia la Camusso e la Will con la Cisle perché insomma la Cisle Will hanno chiesto ai loro iscritti di attuare uno sciopero protesta di due ore per lunedì prossimo e recarsi davanti alle prefetture di tutta Italia per chiedere al governo l'apertura del negoziato sulla manovra avvalata proprio dal Consiglio dei Ministri una scelta che però ha scatenato la forte irritazione della CGL che sciopererà a questo punto per conto suo sempre lunedì per 4 ore allora insomma la nota adolente per quello che riguarda i sindacati sono soprattutto le pensioni sono sul periodo di guerra diciamo che forse questa potrebbe essere un po' la vera spina nel fianco insomma per il governo Monti ecco è migliorabile da questo punto di vista secondo lei manovra la Lega dall'altro si dice pronta insomma a fare un referendum con questa riforma si chiude un'epoca che rischi intravede Bersani proponeva insomma un accostamento della riforma in maniera più graduale che tuteli pensionati a basso reddito e con l'incremento dell'esenzione del lici sulla prima casa qui c'è un problema l'intervento sulle pensioni è di due tipi le misure che riguardano coloro che devono andare in pensione e le misure che riguardano coloro che sono già in pensione gli unici ai quali è stato chiesto una rinuncia in modo preciso e inequivocabile è chiaro che già dicendo questo c'è un contrasto molto forte forse qualche correzione sarà assolutamente indispensabile vorrei dire inevitabile un aggiustamento sentito prima Franceschini ricordare una cosa importantissima le frequenze televisive ricordiamolo per chi non lo sapesse con il precedente governo erano state messe all'asta le frequenze per le telecomunicazioni frequenze che avevano che portano in cassa circa 4 miliardi di euro frequenze con le quali gli operatori possono allargare la loro attività le frequenze televisive erano offerte gratuitamente agli operatori attraverso un meccanismo che si chiama concorso di bellezza quindi si valuta solo la bellezza degli operatori una procedura gratuita molto strana tale che ha provocato il risentimento di un operatore come Sky che ha detto che non intende partecipare così come sono stati recuperati 4 miliardi di euro dalle frequenze per le telecomunicazioni le frequenze televisive potrebbero portare a casa molti soldi che sarebbero importanti a parte anche qui quando arrivano i soldi c'è anche un problema di giustizia perché le frequenze telecomunicazioni si vendono e quelle televisive no? questa è una bella domanda che andrei a fare lei qual è la risposta allora magari insomma torneremo anche perché insomma può essere anche Monti poi molte cose come ha detto le vedrai in un secondo momento adesso come dire tamponare un po' la crisi intanto però la CEI la manovra del governo Monti era necessaria ha detto la CEI ma poteva essere più equa si è fatta ancora poco sono fatti a passi ma avanti ma potevano essere ancora più equamini si poteva fare di più sui redditi alti e poi l'Ox invece per l'Ox le misure fiscali per il governo italiano affrontano la necessità del consolidamento di bilancio abbassando il peso fiscale sulle imprese sulle nuove assunzioni danno una spinta alla crescita e all'occupazione della CEI che dice l'esatto contrario della CEI sicuramente la voleva più equa questo lo dice pure insomma sono felice che l'Ox sia generosa perché nel mondo che ci siano apprezzamenti così è importante forse no sul versante dello sviluppo onestamente dobbiamo fare di più e allora vedremo intanto però la CGA Salvare l'Italia le famiglie costerà in media 635 euro Salvare l'Italia lo ricordiamo insomma è il nome che ha dato proprio Monti alla manovra la stima dell'impianto alla manovra economica del governo Monti e della CGA l'associazione degli artigiani delle piccole e medie imprese di Mestre e tenuto conto anche delle manovre estive elaborate dal precedente governo Berlusconi l'importo complessivo che graverà sulle famiglie italiane raggiungerà nel quadriennio 2011-2014 6400 euro ecco c'è un dato insomma questo sono pesanti le famiglie sono molto in crisi tra l'altro anche un po' l'aumento dell'IVA si parla insomma che potrebbe dare una botta anche i consumi e queste cifre insomma un po' parlano da sé insomma e a proposito di IVA nel momento in cui sono stati tagliati gli adeguamenti al costo della vita per le pensioni e c'è un aspettativo di aumento dei prezzi a causa dell'aumento dell'IVA quella misura lì può apparire particolarmente non equa questo è un problema delicatissimo su cui effettivamente il Parlamento si deve interrogare deve riflettere e deve vedere se confermare tutto o no è chiaro che siamo di fronte a tentativi di rimediare a qualcosa che non andava i conti pubblici italiani e sottolineo italiani per dire che non era l'Unione Europea che ce lo doveva dire eravamo noi stessi che dovevamo provvedere alla nostra casa cosa che per tanti anni non abbiamo fatto anche perché negavano il governo Berlusconi negava la crisi già eravamo nel pieno della crisi quindi probabilmente c'è stato un grande ritardo intanto ci sono ancora le reazioni alla manovra lo suggeriamo un buon interesse al Senato poco fa ha parlato Massimo D'Alema parla di una medicina amaria ma è necessaria visto il disastro in cui ci ha lasciato il governo Berlusconi D'Alema dice proprio a Napoli ha sottolineato nella manovra ci sono luci e d'ombra ci sono aspetti che nel diritto si potrebbero correggere ma complessivamente questa manovra è purtroppo necessaria però abbiamo parlato di Unione Europea ecco anche oggi Merkel e Sarkozy hanno parlato a Francia e Germania vogliono risignare l'architettura dell'Unione Europea per questo chiedono un nuovo trattato dell'Unione Europea a 27 Stati membri e almeno a 17 o almeno a 17 Stati membri avete sentito anche le parole appunto di Monti che parla insomma di più credibilità più vigore dell'Italia in Europa allora vediamo insomma il servizio che ci racconta cosa hanno detto oggi Merkel e Sarkozy Un nuovo trattato per rendere l'Unione Europea più agile nel fronteggiare le crisi con sanzioni automatiche per i paesi che non rispettano le regole relative al deficit di bilancio e il principio del pareggio inserito nella Costituzione Nicolà Sarkozy e Angela Merkel illustrano le proposte di riforma che presenteranno al Consiglio Europeo di giovedì e venerdì prossimi a Bruxelles vogliamo un nuovo trattato affinché tutti i popoli europei dell'Eurozona e dell'intera Unione si rendano conto che le cose non possono andare avanti come è stato finora preferiamo che ci siano 27 firmatari in modo che nessuno si senta escluso dall'iniziativa franco-tedesca ma siamo pronti ad andare avanti con 17 membri aperti a qualsiasi Stato che voglia aderire siamo contro gli Eurobonds ci sarà ogni mese una riunione dell'Eurogruppo e di tutti coloro che sono interessati con l'obiettivo di accrescere la competitività e rilanciare l'economia Francia e Germania propongono inoltre che l'introduzione del meccanismo europeo di stabilità sia anticipato dal 2013 al 2012 e che le decisioni al suo interno siano prese a maggioranza qualificata e non all'unanimità Allora infine Sarkozy ha anche ribadito che per risolvere la crisi bisogna fare presto la situazione è grave sull'Italia poi Sarkozy ha detto la situazione italiana non è paregolabile a quella della Grecia che è un caso particolare Allora le chiedo subito insomma un nuovo trattato o no agli Eurobond obbligo di bareggio di bilancio nella costruzione queste insomma alcune delle proposte a cosa serviranno queste misure e che valutazione ne dà a questo punto perché proprio adesso soprattutto Allora se si poteva fare fermo immagine ci fermavamo anche con la memoria quelle due persone lì quando avevano un atteggiamento diverso e ridevano di noi erano Sarkozy e Merkel le stesse persone le stesse persone oggi quelle due stesse persone nel momento in cui Monti in Parlamento dice facciamo una strategia seria europea loro due propongono un intervento riformatore sostanzialmente come dire se sono affidabili nelle parole una strategia di rilancio dell'Unione Europea di cui si avvertiva un grandissimo bisogno la contestualità delle due cose come dire ci dovrebbe far festeggiare nel vero senso della parola se vogliamo essere un po' presuntuosetti come italiani potremmo dire guarda caso le due cose avvengono in contemporanea la Merkel e il Sarkozy pur criticandoci sistematicamente ci hanno sempre detto non c'è avvenire per l'Europa non solo per l'Euro ma per l'Europa senza l'Italia per cui io la considero sotto l'aspetto delle dichiarazioni verbali una giornata importantissima che siano state dette queste cose adesso spero che la Merkel e il Sarkozy che come dire non è che poi abbiano spinto veramente nell'andare avanti nella strategia unitaria dell'Europa siano conseguenti e ricordiamoci però che l'Europa come diceva il servizio è fatta da 27 paesi quindi tutti gli altri 25 fra cui l'Italia siano possibilmente auspicabilmente impegnati nel portare avanti il progetto europeo che finora è stato un progetto importantissimo lento ma anche come dire carente su alcuni aspetti per quanto riguarda l'Euro non ci potevamo preoccupare solo del contenimento del deficit e quindi soltanto delle uscite e poi non occuparci anche delle entrate dell'armonizzazione della politica economica insomma questo è un gran passo un passo molto importante sembrerebbe allora intanto però ascoltiamo cosa ha detto oggi Marino Fiasella che è il presidente della provincia di La Spezia perché avete insomma visto il governo il taglio appunto le province insomma quindi i costi della politica allora vediamo questa intervista che ha realizzato il nostro collega Stefano Caggelli Marino Fiasella presidente della provincia di La Spezia da presidente di provincia qual è il suo giudizio sulle norme contenute nella manovra proprio riguardo agli enti locali ma io faccio una riflessione di carattere generale dico che purtroppo nel momento nel quale si chiede ai cittadini di fare grandi sacrifici bisognerebbe almeno tenere per i cittadini nei momenti di disagio la rappresentanza democratica credo che ci sia meno bisogno della rappresentanza democratica quando le cose vanno bene quando alle persone si è già dato tutto ma nel momento in cui gli si chiede di fare sacrifici allontanargli anche la rappresentanza democratica credo che sia una cosa sbagliata mi sembra che ci sia un salto nel buio insomma un abbandono della presenza sul territorio è importante è importante ciò che le province fanno a prescindere da ciò che la gente pensa è stato sbagliato molti non sanno che cosa fanno è lente di prossimità dei bisogni non delle persone ma del territorio i disastri che stanno accadendo nel nostro paese dappertutto insomma io naturalmente parlo di quelle recenti sul mio territorio nelle Cinque Terre nella Valdivara ma anche in Sicilia in Calabria dappertutto dimostrano che per il territorio ci vogliono più risorse non e quindi io ritengo che se faccio un appello a questo governo dico di non dimenticarsi di questa cosa non vorrei che sottraendo la presenza di eliminando di fatto perché la manovra contiene un previmento di fatto riduce e per questo aspetto credo che sia così come rappresentata per ora incostituzionale perché non si può eliminare un livello democratico previsto nella Costituzione togliere la rappresentanza e pensare contestualmente di togliere le risorse ciò che le province spendono sono spesi per il territorio per la viabilità per i corsi d'acqua per queste per queste cose essenziali nella manutenzione del paese se non c'è questo dico bisogna che quelle risorse lì siano date a qualcun altro ma non le risorse che si davano oggi che sono ormai danni insufficienti bisogna raddoppiare le risorse al territorio non so come sia possibile farlo se si pensa ad Amble che togliendo le province si possa zerare tutto il costo che ad oggi veniva destinato a questa funzione allora oggi c'era proprio l'Assemblea dell'Unione delle Provincie italiane insomma hanno lanciato proprio Fischi sia Presidente della Repubblica già regionale e anche nei confronti appunto di Mario Monti insomma e soprattutto anche nei confronti di Nicola Zingaretti appunto Presidente della Provincia di Roma e che si è dovuto interrompere quando nel momento in cui insomma ha chiesto proprio un contributo in questo senso allora lei che pensa insomma di questo si poteva voglio dire le province comunque se ne è parlato tanto tutto l'argomento dell'estate si poteva fare di più è sbagliato hanno ragione semplificare la macchina dello Stato è assolutamente indispensabile il primo punto che ha detto il Presidente della Provincia di La Spezia è un punto estremamente delicato però su cui dobbiamo riflettere questo provvedimento adottato ieri dal governo cancella le giunte provinciali se capisco bene significa che resta in piedi solo il Presidente della Provincia beh effettivamente non è un sistema molto democratico un uomo solo al comando e poi nessuno quindi insomma magari in Parlamento si questo lo trovo un po' squilibrato onestamente allora intanto però ecco insomma poi vedremo chiaramente anche cosa succederà nei prossimi giorni però ecco ricordiamo che c'è stato questo weekend degli stati generali della cultura sabato e domenica proprio li ha organizzati il Partito Democratico a concludere è stato proprio il segretario del PD Pierluigi Bersani che ha delineato la strategia del PD proprio nel quadro politico e soprattutto i rapporti con il governo tra l'altro sova va ricordato che proprio durante questi due giorni è intervenuto il ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi allora l'ha seguito per noi Antonella Madeo vediamo il servizio alle officine Marconi di Roma il 3 e 4 dicembre si sono svolti gli stati generali della cultura alla Kermessa hanno partecipato operatori della cultura artisti personaggi noti e tantissimi delegati che negli scorsi mesi hanno lavorato al progetto nei loro territori e il segretario del PD a chiudere la due giorni di lavori sottolineando la volontà del partito a confrontarsi col mondo della cultura settore che deve essere centrale nella vita del paese un settore in crisi per colpa del governo passato se siamo di fronte al rischio di una crisi sistemica tradotti in parole povere default tradotti in parole ancora più povere fallimento è perché qualcuno ci ha portato fin qui e non s'azzardi la Lega ad accendere adesso con la miccia le polveri che ci ha messo sotto i piedi Bersani parla dopo aver ascoltato il ministro Ornaghi ma prima di ciò che il presidente Monti avrebbe annunciato di lì a poco al paese intuisce però che la manovra non sarà equa come aveva chiesto e i toni sono duri promette che il PD lavorerà per renderla più giusta il senso di responsabilità è più forte di ogni cosa eppure l'orizzonte della ricostruzione Bersani lo intravede già dobbiamo interpretare questa fase propriamente come l'abbiamo definita emergenza e transizione noi abbiamo un nostro orizzonte il nostro orizzonte si chiama ricostruzione democratica e sociale del paese il ministro Ornaghi alla sua prima uscita pubblica non parla di tagli non accende all'abolizione dell'Empals ma ricorda invece il ruolo che svolge la cultura nel paese la cultura è vitale quando produce visioni culturali e adopero non per caso il plurale le quali visioni culturali a loro volta devono produrre visioni autenticamente politiche la debolezza della cultura è anche fonte della debolezza della politica il rapporto fra cultura e politica è sempre stato strettissimo ed è la fecondità di questo rapporto dunque sempre storicamente di peso il grado di vigenza il grado di vitalità la capacità di superare le crisi ricorrenti da parte dei sistemi e propone di defiscalizzare i costi per la cultura soldi che servono per tutelare i tanti teatri in crisi i cinema che chiudono le produzioni cinematografiche azzerate e così via nel convinto Orfini che invoca la fine della guerra tra poveri con le fabbriche da una parte e i teatri dall'altra Antonio Pennacchi in cui lui diceva sì certo noi soffriamo quando vediamo chiudere un cinema o vediamo chiudere un teatro ma dobbiamo soffrire di più quando chiude una fabbrica io ho cercato di spiegarlo nella relazione noi soffriamo allo stesso modo perché sono due facce della stessa medaglia vogliamo che la Fiat resti in Italia e siamo disposti a fare di tutto per convincerla a restare in Italia se accettiamo questo tipo di sfida anche alle nostre industrie serve la cultura serve il sapere serve la ricerca e noi questo abbiamo cercato di far capire in queste due giorni il primo passo è stato fatto di cultura sì che si mangia di cultura sì che si mangia intanto volevo chiedere proprio al nostro ospite che insomma era presente l'abbiamo visto che tra l'altro ha scritto un libro il bel paese maltrattato ecco Bersani parlava di ricostruzione democratica sociale del paese che ha a che fare tutto questo con la cultura tutto questo è la cultura perché se siamo un paese che non legge che non va a cinema che fa crollare Pompei che ha i topi alla biblioteca di Firenze non andiamo da nessuna parte ma è una questione innanzitutto di identità di ciò che siamo noi di memoria anche che stiamo calpestando poi anche un fatto economico prendiamo solo un settore culturale fra tutti l'Italia è un paese che legge poco assolutamente sì un italiano su due non legge neanche un libro in un anno ebbene il mercato editoriale i libri venduti valgono 3 miliardi e mezzo di euro in un anno allora la cultura è anche una grandiosa industria e può essere un elemento di sviluppo fondamentale ora bisogna capire come riuscire a dare una spinta a questo settore in un momento in cui non ci sono soldi per nessuno ecco ma Ornaghi insomma avete chiesto qualcosa probabilmente qual è stata la sua risposta anche in questo senso anche se insomma si è appena insediato diciamo Ornaghi sicuramente ha parlato un altro linguaggio già il fatto che non abbia parlato di tagli in una giornata drammatica perché appena ha finito il discorso ha salutato ed è andato a tagliare in consiglio dei ministri o a passare in consiglio dei ministri proprio il tempo esatto esatto per arrivare ci ha impiegato dalla fine del discorso al consiglio dei ministri qualche segnale di novità c'è lui stesso ha preannunciato che esporrà il suo programma alle commissioni parlamentari per la cultura mi sembra che un pochino ci si stia incamminando sulla comprensione che la cultura non è una cosa da assistenza da elargizione adesso ti do qualcosina ma è un fatto di identità del paese è una grandissima e clamorosa industria che è industria in sé ma anche per quello che significa il turismo la gastronomia i viaggi gli alberghi l'artigianato tutto ciò che è collegato non possiamo più intendere la cultura come dire come tante piccole nicchie tutti i compartimenti stagni allora io ringrazio Roberto Eppolito grazie a voi però vi lasciamo con delle appunto con un racconto attraverso appunto le interviste gli interventi di questi due giorni sempre realizzato da Antonella Amadeo grazie per averci seguito PD oggi tornato domani sera una buona serata a tutti la cultura secondo lei ha un colore politico no no la cultura non deve avere un colore politico la cultura deve essere di tutti e chi ha un colore politico si deve si deve preoccupare di chi di condividere insieme agli altri questo senso della cultura e ha ricordato sul palco che insomma gioca in casa perché è stato uno dei fondatori del partito democratico allora che cosa si aspetta dal PD per quanto riguarda la cultura se vuoi una risposta a Tukur è che il partito si interessi di più di questo argomento cioè a dire non è solo un convegno che per l'amore di Dio ci aiuta intanto a tentare di cominciare a tracciare linee fare proposte a provocare ma che ci sia un coinvolgimento più in generale mi stava ricordando qualcuno mi diceva sapendo del mio intervento parliamo di qualità di persone che vengono poi delegate ad avere responsabilità nell'ambito della cultura ecco credo che anche questo sia fondamentale quanti anni hai? tanti tanti? no sembri pochi tanti 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 vedi questo è il problema diciamo l'accesso nel senso garantire ai giovani l'accesso alla cultura l'accesso proprio come protagonisti non soltanto come fruitori e penso che il tema del tappo di cui parlato nella relazione Orfini sia un tema giustissimo e assolutamente il senso dell'equità e della democrazia sta nel fatto e della partecipazione e la cultura è stata per troppo tempo al di là di tutte le cose che si dicono sui tagli che ovviamente sottoscrivo ha perso la capacità di rigenerarsi e di dare anche una una spinta nuova da quello che veniva dalla creatività che viene dal paese stavo sentendo Marino Sinebaldi che l'aveva presa benissimo quello che mi piace degli internaziani di sinistra è che non sono permalosi per un cazzo il tuo intervento ha rotto un po' gli schemi io direi ha rotto un po' appunto la sala è stata in religioso silenzio secondo te perché? perché come ti dicevo prima stavano facendo il sudoku grazie a tutti